Simone Fautari alla vigilia della gara col Siena, un derby importante perché fra due squadre blasonate ma importante anche per la classifica? Sì, è una partita ormai diciamo quasi sempre le stesse cose, è importantissima, è un derby e come tutti i derby che ci sono si vuole fare bene e si vuole vincere. La stiamo preparando come al solito bene e non vediamo l'ora di scendere in campo. Il Siena è un po' indietro in classifica ma è una rosa composta da ottimi giocatori e molti giocatori esperti quindi ci aspetta una vera battaglia. Sì, ho visto la squadra che hanno allestito quest'estate nonostante non sono nelle zone alte della classifica, hanno perso solamente una volta e hanno giocatori come Mendicino, Bonazzoli, Mastronunzio, soprattutto nel reparto avanzato, pericolosi. Veniamo a te, sei dovuto mancare in alcune partite per dei problemi fisici, poi sei rientrato e per te sono arrivate anche delle parole di elogio di mister Gattuso che penso ti abbiano fatto piacere. Sì, non le ho forse sentite, forse ho capito di cosa ti riferisci. Appena arrivato avevo una squalifica che mi portavo dietro dalla finale playoff dell'anno scorso e poi ho avuto una distorsione abbastanza importante alla caviglia. Sono stato fuori per parecchio tempo. Ora sono rientrato e non vedo l'ora comunque di dare continuità per scendere in campo e per dare una mano ai miei compagni. Ultima domanda sul campionato. Vista la tua esperienza a livello di Lega Pro, anche fortunata lo scorso anno con il Como, che idea ti sei fatto di questo girone? Cosa pensi che possa essere determinante in questa lunga e avvincente volata? Di questo girone per adesso mi ha colpito comunque l'organizzazione di quasi tutte le squadre che abbiamo affrontato. È difficile giocare contro chiunque perché abbiamo visto anche a Savona comunque una squadra che ci ha messo non sotto, però è riuscita a vincere e non ne ha riuscito quasi nessuno. Rispetto all'anno scorso il girone A magari è un po' più tecnico rispetto per adesso a quello di quest'anno. C'erano squadre con un tasso qualitativo maggiore, però è vero che c'erano squadre dove sulla carta facevano fatica, soprattutto le ultime. L'arma io sono convinto che possa essere l'unione di intenti che si sta creando da quando sono arrivato io, ecco, con la nuova società, i nuovi giocatori, quelli che c'erano già. Perché solo così secondo me si possono raggiungere degli obiettivi, qualsiasi di essi siano. Grazie.